Bando Cultura Sostenibile La grave situazione del bilancio pubblico, amplificata dall'assenza di efficaci politiche per la cultura e la debolezza di un settore ancora troppo frammentato, impongono agli operatori il perseguimento di nuove forme di sostenibilità economico-finanziaria, oltre che socio-culturale. Con Sostenibilità ci si riferisce alla necessità di perseguire livelli più elevati di autonomia economico-finanziaria. Soprattutto per una certa categoria di istituzioni, di dimensioni medie o medio-grandi, per quanto non orientate al profitto e impegnate in aree di interesse pubblico e sociale, ci si riferisce all'urgenza di un orientamento sempre più deciso verso un modello organizzativo di impresa, mediante ripensamenti della gestione, riposizionamenti e rinnovamenti e o diversificazioni delle attività. Il Bando si rivolge a organizzazioni culturali di natura privata non profit, con sede legale nel territorio di riferimento e di fondazione Cariplo, che vantino negli ultimi tre anni un'attività regolare, redigano il bilancio secondo il principio della competenza e producano sia conto economico sia stato patrimoniale, abbiano generato ricavi negli ultimi due esercizi pari ad almeno 100.000 euro anno, che espongano in relazione ai due anni precedenti un valore positivo di patrimonio netto, abbiano avuto nell'ultimo anno di attività al proprio interno, legate con un contratto stabile, almeno tre risorse di personale, di cui una dedicata all'ambito manageriale. Grazie!